Il segreto del successo. Oggi riprendo nuovamente uno di questi libricini di Brian Tracy, nuovamente Strategia di Business, e ti leggo un capitolino interessantissimo, come sempre. Concentratevi su quello che sapete fare bene. Bill Gates Jr., Warren Buffett e Bill Gates Sr. erano ad una cena di gala. Mentre chiacchieravano, uno degli ospiti si è avvicinato e ha fatto loro questa domanda. Voi siete persone di grandissimo successo. Secondo voi, oggi, qual è la qualità più importante per il successo? I tre hanno smesso di conversare, si sono rivolti verso l'ospite e hanno risposto all'unisono, la focalizzazione. Riconoscevano tutti e tre che la capacità di concentrarsi al massimo su una sola cosa alla volta è essenziale per il successo in un mondo caratterizzato da un'attività incessante e da una turbolenza permanente, da distrazioni costanti e infinite e da una competizione feroce per l'attenzione di ciascuno. La focalizzazione è tu. Rivisitazione della regola dell'80-20 Quando parliamo di focalizzazione, ci torna in mente la regola dell'80-20. Questa regola afferma che il 20% delle cose fatte produrrà l'80% dei risultati. Enunciata nel 1895 da Vilfredo Pareto è nota come il principio di Pareto. Questa regola vale valora e vale tuttora. Siccome non potete fare tutto, dovete concentrarvi sulle poche cose che sapete fare bene e che hanno il maggior potenziale in termini di risultati economici e finanziari. La strategia aziendale si basa proprio sulla concentrazione delle risorse. Dovete focalizzarvi e sfruttare i vostri punti di forza per conseguire il massimo vantaggio possibile sul mercato. Quello della focalizzazione è un tema che ho trattato più volte nelle pillole, anche quando ho parlato del libro Una cosa sola di Gary Keller che afferma la stessa cosa. E ora non so se è vera questa cosa della cena di gala dove entrambi questi tre portenti, questi tre signori che hanno un grandissimo successo hanno risposto tutti insieme alla focalizzazione. In ogni caso è importante capire una cosa, soprattutto per i libri professionisti e quelli che hanno pochi collaboratori e si trovano a fare tante tante cose ma spesso sono cose che sono oltre la loro competenza. Ovvero sono cose che sanno fare ma non sono le cose che sanno fare meglio. E cosa significa questo e che conseguenze ha nella nostra vita? Ti faccio un esempio, faccio sempre questo esempio praticamente. Io so utilizzare Photoshop, tecnicamente lo so utilizzare tutto sommato abbastanza discretamente quindi conosco le funzioni, conosco gli strumenti e lo so usare. Ma graficamente faccio schifo, non riesco a fare un abbinamento di colori sensato, non ho proprio lo stile, non zero. Il che significa che se dovessi fare una grafica forse ce la farei perché tecnicamente sono capace di farlo ma mi richiederebbe tantissimo tempo, uno sforzo enorme e il risultato sarebbe mediocre. Al contrario, se mi affidasse un grafico super esperto a fare questo, in pochissimo tempo riuscirebbe a fare un lavoro molto migliore rispetto al mio. E questo è un punto fondamentale che i piccoli imprenditori devono tenere a mente. Questo è importante per i piccoli imprenditori, i libri professionisti che si trovano a fare 100 cose e non si focalizzano su ciò che invece è veramente importante, ciò per cui sono pagati e ciò di cui sono veramente esperti. Quindi se vogliamo fare crescere la nostra attività, dobbiamo entrare nell'ottica di trovare delle persone a cui delegare le parti che noi, è vero, potremmo anche fare, ma non sono il nostro core business perché spesso quando ad esempio accettiamo il lavoro siamo pagati per una determinata cosa per la quale la nostra competenza è la motivazione principale. Per cui io vengo da te perché mi fai un sito internet spettacolare, perfetto, significa che tu sai fare un sito internet spettacolare. Se però già che sono lì ti chiedo anche di farmi la pubblicità su Facebook, immaginiamo, Sì, tu tecnicamente lo sai fare, inizia a farlo, ma il risultato che porterai sarà mediocre, come dicevamo prima, e perderai un sacco di tempo e tutto questo tempo che tu stai perdendo è tempo che togli al fare altri siti internet spettacolari. Quindi devi iniziare a dire dei no per le cose che non riguardano la tua caratteristica primaria, quindi che non fanno parte proprio del tuo core business, oppure devi iniziare a delegare queste parti proprio per liberarti tempo per fare ciò che si fa bene. Questo è un cambiamento di mentalità importantissimo perché significa smettere di essere da soli il pilastro della nostra attività, ma iniziare a circondarci di persone competenti nelle aree dove noi siamo più scarsi, riuscire a fornire al cliente un servizio molto più professionale, riuscire a liberare del tempo per noi e a lavorare sulle cose veramente importanti. E ripeto, è un cambio mentale difficilissimo da fare, serve tempo, però una volta che riuscirete a capire questo il vostro business farà veramente un grandissimo salto di livello. Per cui inizia a rifletterci attentamente perché è un passaggio che prima o poi, se vuoi crescere, dovrai fare. Eventualmente contattami per una consulenza che ti possa anche aiutare in questo. Con queste tutte, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ovviamente se questi temi sono di vostro interesse vi consiglio tutti questi libricini di Brian Tracy che hanno anche un titolo, cioè sono raggruppati per la Biblioteca del Successo. Sono tutti questi libricini, qui ne ho quattro, e anzi tre, uno non fa parte di questa Libreria del Successo, e sono quelli che ho letto in questi giorni, Strategia di Business, Delegare, Coordinare e Successo Personale. Sono tutti carini e addirittura il punto debole, secondo me, di questi è che in pochissime righe sono concentrati concetti talmente importanti che cosa succede? Tu inizi a leggere, magari leggi una mezz'oretta, te lo finisci e non ti puoi ricordare tutti i concetti che erano dentro perché sono stati appena toccati, ma sono concetti importantissimi. Quindi se le avessi voluti trattare in maniera più approfondita, Brian avrebbe scritto dei libri molto più pesanti come ad esempio l'altro suo libro di cui ho parlato tempo fa, Massimo Rendimento, quello è un libro pesantissimo ad esempio perché per ogni argomento entra in maniera molto profonda. Però sono comunque libri carini, io consiglio di prenderli e di sfogliarli saltuariamente, quindi in base al periodo che stiamo affrontando, leggendo potremo trovare degli spunti che oggi ci colpiscono particolarmente, magari quattro mesi fa non ci colpivano. Quindi sono assolutamente, assolutamente dei libri carinissimi. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!